C'è già un primo nodo per quanto concerne la nuova giunta di Montesilvano, il problema del bilancio da approvare. Consigliere Panichella, qual è la situazione che voi avete posto all'attenzione anche della cittadinanza? Sì, sicuramente questa grana l'abbiamo ereditata un po' tutti dall'amministrazione precedente, perché in pratica la giunta Maragno non ha mai approvato il bilancio consuntivo del 2018 e già in aprile il prefetto aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di farlo nei termini previsti dalla legge, quindi entro fine aprile non è stato fatto, ovviamente c'erano le elezioni imminenti e adesso già da maggio di nuovo la prefettura ha intimato, ha proprio fatto una diffida al comune e quindi richiamando la necessità di approvare questo rendiconto di gestione 2018. Il problema è che ci sono dei tempi tecnici previsti dal Tuel, che è il testo unico sugli enti locali, per cui il bilancio può essere discusso e approvato soltanto 20 giorni dopo che è stato portato all'attenzione dei consiglieri. Questo è stato fatto soltanto nei giorni passati, quindi questi 20 giorni finiranno nei primi giorni di luglio. Quindi noi vogliamo il rispetto delle regole e quindi chiediamo che non venga discusso nel corso del primo consiglio, perché non ci sono questi tempi tecnici. Bisogna però fare in fretta? Assolutamente sì, bisogna fare in fretta, però bisogna anche richiamare un po' tutti sul rispetto delle regole, perché quando si comincia ad andare in deroga una regola si annulla. Ora noi ci vogliamo porre come consiglieri di minoranza con un atteggiamento molto propositivo, costruttivo e vogliamo in qualche modo fare il bene della nostra città. Però questo non può assolutamente scontrarsi con il mancato rispetto di regole, che sono codificate, sono regole che valgono per tutti e peraltro non vogliamo che si rischi l'annullamento di questo atto, perché ci sono già dei precedenti in cui il Tar ha annullato queste approvazioni fatte senza la decorrenza dei 20 giorni previsti dal Tuel.